Carnevale di Sciacca, questa mattina la conferenza stampa di presentazione della manifestazione che si svolgerà dall'8 al 13 febbraio, protagonisti gruppi e associazioni che hanno dato una anticipazione della festa. Spaccio di stupefacenti, altra operazione dei carabinieri a Sciacca, in manette sono finiti due minorenni, beccati dai carabinieri con due panetti di hashish in centro storico, erano appena scesi dal pullman proveniente da Palermo. Torna in primo piano il fenomeno del caporalato nelle campagne di Ribera durante la raccolta delle arance, due denunce a conclusione di un nuovo blizzi dei militari dell'arma, finalizzato a contrastare il lavoro nero. Nuova escalation di furti nelle campagne di Sciacca, nonostante i controlli del territorio da parte delle forze dell'ordine, ladri in azione in particolare in Contrada Bordè e Contrada Raganella. Domani la processione della Madonna del soccorso di Sciacca, dopo la decisione ieri pomeriggio di annullare la manifestazione religiosa a causa del maltempo e dei conseguenti rischi per i portatori della vara. Terme di Sciacca, il parlamentare del PD Michele Catanzaro sollecita la regione a far presto e definire le procedure per consentire la riapertura delle strutture. Non manca la polemica con il Movimento 5 Stelle. Un cordiale saluto, benvenuti su Telemonte Cronio per il consueto appuntamento con la nostra informazione. In apertura un'ampia pagina dedicata al Carnevale di Sciacca, presentata questa mattina l'edizione 2018 del Carnevale, che prenderà il via giovedì prossimo 8 febbraio. Al Cinema Campidoglio, conferenza stampa di presentazione e contestuale, anteprima della festa con l'esibizione dei gruppi mascherati che precedono i carri allegorici. Ma seguiamo il primo dei nostri servizi. Presentazione del programma e contestuale anteprima della festa con l'esibizione dei gruppi mascherati questa mattina all'interno del Cinema Campidoglio, durante la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2018 del Carnevale di Sciacca. Ad illustrare il programma delle sei giornate di festa è stata l'amministrazione comunale, con il sindaco Francesca Valenti e il vice sindaco Filippo Bellanca. Il programma parte appunto l'innesto, se innesto si può chiamare, ma è parte integrante, è la fascia B nella partecipazione al Carnevale, cioè i cosiddetti mini carri, che devo dire che sono anche questi di buona fattura, e quindi è un inserimento nuovo che consente ai più giovani di ritornare alla partecipazione del Carnevale. Ho fatto il giro, ho incontrato le maestranze, gli operatori del Carnevale, e questo è l'aspetto bello, fantastico del Carnevale, perché proprio si sente l'amore, la passione che mettono al di là di tutte le difficoltà oggettive che veramente riscontrano e che hanno, e quindi questo è veramente l'aspetto che caratterizza il nostro Carnevale, ma che lo fa anche un evento meraviglioso per la città. Dall'altro lato è ovvio che è un momento di grande responsabilità, perché tutto quello che è l'organizzazione, le norme di sicurezza, il piano di sicurezza, e tutto proprio all'organizzazione, fa nascere ovviamente problemi e dà anche un grande senso di responsabilità che non può essere dimenticato. Tra le novità di quest'anno, il ritorno dei carri di fascia B è la cerimonia di consegna delle chiavi della città al Peppe Nappa nella serata di giovedì 8 febbraio sul palco di Piazza Angelo Scandaliato e non più nella giornata di sabato lungo la via Cappuccini. Cosa vi ha spinto a reintrodurre i minicarri? No, ma è un pensiero che ho sempre detto anche pubblicamente in altre occasioni, quindi adesso dal ruolo di amministratore era il minimo che potevo fare, quello di inserirli. e forse i fatti mi stanno dando ragione, nel senso che ho visto la qualità dei due minicarri ed è veramente carina, è veramente bella. Un'altra novità è che la cerimonia di apertura e di consegna delle chiavi quest'anno verrà in Piazza Scandaliato. Sì, verrà in Piazza Scandaliato con il Peppe Nappa che arriva dal mare nuovamente, con il giovedì e non più il sabato come si è fatto nella zona via Cappuccini, con il sindaco che aspetterà il Peppe Nappa sul palco e con una recita che ci sarà da parte del Peppe Nappa prima di prendersi le chiavi della città. Carnevale di Sciacca che torna a svolgersi nei sei giorni da calendario e non più con la formula del doppio fine settimana, scelta legata alla volontà dell'amministrazione comunale di organizzare delle serate di carnevale durante la prossima estate. Noi quest'anno in aggiunta la novità sarà quella del carnevale estivo, qualcuno pensa che noi abbiamo ridotto una settimana per una questione di costi, non è proprio così perché chi conosce bene il carnevale sa che la macchina organizzativa ha già un costo di suo al di là delle giornate, quindi l'inserimento di due giorni in più non era un eccessivo costo, ma la nostra idea è quella di fare il carnevale estivo. Noi vogliamo portare ovviamente i turisti in un momento un po' più, diciamo, chiamiamolo purtroppo, non è bassa stagione, ma da noi non c'è una grande presenza che è il luglio. Si è lavorato da subito proprio per far sì che sia una festa intanto, una festa per la città, ma una festa di attrazione in maniera tale che fuori si sappia cos'è il carnevale di Sciapca e possa diventare anche un modo per promuovere il nostro territorio e la nostra città. Anche in questa logica il carnevale estivo si vuole per questo motivo, non portandolo in un mese di presenze che abbiamo, quindi ad agosto, ma verosimilmente a luglio proprio per attirare turisti e far vedere a chi non può venire in questo periodo dell'anno cos'è Sciacca e cos'è il suo carnevale. Prima esibizione dunque questa mattina per i gruppi mascherati che parteciperanno alla imminente edizione del carnevale, una componente molto importante della festa. i gruppi mascherati con le loro coreografie, inno e costumi, un lavoro che vede impegnati diversi coreografi saccensi, molti dei quali da tanti anni ormai sono anche loro i protagonisti del carnevale. Seguiamo quest'altro servizio di Noemi Tummiono. Ultimi giorni di lavoro per coreografi e carristi impegnati i primi a curare le coreografie dei gruppi mascherati, gli altri a ultimare le opere in cartapesta che da sabato daranno vita al corteo mascherato. Questa mattina durante la conferenza stampa di presentazione del carnevale c'è stata una prima esibizione dei gruppi che precederanno i carri allegorici. Diciamo che siamo prontissimi, coreografie per quanto mi concerne sempre bellissime, musiche altrettanto, a parte che abbiamo un inno strepitoso, quindi tu mi insegni che con la musica quando ti spinge fai delle cose meravigliose, quindi siamo prontissimi. Quanti elementi compongono quest'anno il vostro gruppo? 95. Quindi sempre un numero consistente? Abbastanza, sì, 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 abbastanza. Oggi un'anteprima in attesa dell'inizio ufficiale della manifestazione? Sì, oggi siamo qui in questa presentazione di quello che succederà dal carnevale in poi, quindi siamo sempre presenti e pronti ad affrontare questa bellissima festa. Tutto pronto, ormai le ultime battute finali, naturalmente c'è sempre quell'ansia perché ormai il prodotto è quasi finito. Quindi niente, oggi abbiamo quest'anteprima, quindi un piccolo assaggino, infatti sono pochissimi gli elementi del gruppo. Il mio gruppo è formato da 90 persone che ballano più una ventina vestiti in maschera, però non balleranno. Roberto Giglio, anche il vostro gruppo è pronto? Coreografie ultimate? Abiti completati? Sì, sì, già sono gli ultimi giorni, completiamo a breve. Non siamo mai pronti come ogni anno, però usciamo lo stesso. Siamo sempre pronti poi. Anche il vostro è un gruppo numeroso? Sì, noi siamo 120 quest'anno, quindi abbiamo aumentato un po' il numero, confronto all'anno scorso. E questo rende tutto più impegnativo o no? Sì, più siamo e più è impegnativo, però è sempre bello. Diciamo che comunque stiamo ultimando le piccolezze, però abbiamo già tutto pronto per poter partire. Doppio impegno per te, visto che stai curando le coreografie di due gruppi? Sì, esattamente. Abbiamo iniziato con l'associazione La Nuova Avventura Schioma di Bocca e poi successivamente è arrivata un'altra proposta di cui giustamente noi abbiamo accettato perché per noi il carnevale non è solo competizione ma anche aiutare l'uno con l'altro e cercare di far divertire tutti. Da quanto tempo lavorate alle coreografie? Abbiamo iniziato da fine novembre, con l'altro gruppo magari del cara, abbiamo iniziato per metà dicembre, inizio gennaio, e quindi ci diamo ben da fare perché ovviamente ormai il tempo è poco e quindi stiamo cercando di finire il tutto a più presto. Nei garaggi intanto le associazioni culturali continuano a lavorare. Le opere si apprestano ad essere completate in attesa poi del trasferimento la prossima settimana lungo la via Cappuccini per le fasi di assemblaggio. Ormai stiamo ultimando i lavori, stiamo diciamo salutando il colpo finale per essere pronti per il montaggio e per la sfilata. Quando inizierà il trasferimento in via Cappuccini? Molto probabilmente mercoledì alle due nel pomeriggio. Un carnevale che sarà caratterizzato come noto da rigide misure di sicurezza, da un lato le misure antiterrorismo, dall'altro la disposizione della circolare Gabrielli. Mi dispiace per gli ammulanti che non potranno svolgere la propria attività, ma noi abbiamo il dovere di attenerci a tutte le disposizioni in vigore, dichiara al nostro telegiornale il sindaco Francesca Valenti in riferimento alla protesta nei giorni scorsi dei rappresentanti del settore. Ma sentiamo il sindaco da noi intervistato. Enti organizzatori del carnevale di Sciacca impegnati anche sul fronte della sicurezza e dell'ordine pubblico da garantire durante i giorni della festa. Una manifestazione che al pari di tutti gli altri grandi eventi a livello nazionale deve obbedire da qualche anno a delle rigide disposizioni. Da un lato le misure antiterrorismo, dall'altro le direttive contenute nella circolare del capo della polizia Gabrielli. Disposizioni che hanno suscitato nei giorni scorsi la protesta di alcuni venditori ambulanti, da quelli del settore alimentare ai venditori di bombolette spray, martelletti e quant'altro, la cui vendita, ma anche il semplice utilizzo, è vietata da apposita ordinanza sindacale. E anche questa ordinanza obbedisce a precise direttive contenute nella circolare Gabrielli sulla sicurezza degli eventi, come spiega al nostro telegiornale il sindaco Francesca Valenti. Non è stata e non è una scelta dell'amministrazione, perché poi la polemica si è incentrata su queste ordinanze come se fossero discrezionali. Non è così. Tutte le ordinanze che in questi giorni si stanno emettendo rispondono a delle prescrizioni rigide che ci vengono fornite, proprio perché il livello di sicurezza è molto aumentato rispetto al passato e per poterci autorizzare la manifestazione tutte le prescrizioni devono essere comunque rispettate. A me spiace per tutti quelli che trovano dei problemi poi nella gestione, proprio a seguito delle ordinanze. Ma ripeto, non è un atto voluto, né tantomeno è qualcosa della quale si può discutere, perché risponde a delle prescrizioni rigide. Siamo alla cronaca. Due minorenni arrestati a Sciacca per spaccio di sostanze stupefacenti erano appena scesi dal pullman proveniente da Palermo quando sono stati beccati dai carabinieri. Due giovanissimi, entrambi di 17 anni, sono finiti in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel corso di uno specifico servizio di controllo effettuato dai carabinieri della compagnia di Sciacca. I due ragazzi sono stati fermati nel centro storico della città. A insospettire i militari dell'arma è stato il loro atteggiamento, cioè il fatto di aver abbassato il cappuccio, quasi a volersi nascondere, ma anche la circostanza è che erano appena scesi dal pullman proveniente da Palermo. Stiamo solo facendo una passeggiata in centro, hanno detto ai carabinieri che li hanno fermati, ma sottoposti a perquisizione personale dalle loro tasche è saltata fuori la sostanza stupefacente. Quattro panetti di hashish per un peso complessivo di quasi tre etti che sono stati sequestrati dalle forze dell'ordine. Per i due minorenni è scattato l'arresto e dopo gli adempimenti di rito sono stati accompagnati al centro di prima accoglienza di Palermo. La droga al dettaglio avrebbe fruttato quasi mille euro. L'attività svolta rientra in una forte intensificazione del contrasto al fenomeno del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal comando provinciale dei carabinieri di Agrigento. Negli ultimi tre mesi sono stati frequenti infatti blitz effettuati con numerosi pusher finiti in manette. In molti casi si tratta di giovanissimi, mentre per ciò che concerne le droghe sequestrate, oltre al fumo e all'erba, si è assistito anche ad un ritorno dell'eroina. I controlli saranno intensificati nei prossimi giorni in città, in vista del carnevale. Nuovo blitz dei carabinieri volto al contrasto del fenomeno del caporalato e dello sfruttamento del lavoro irregolare nelle campagne di Ribera, denunciati due datori di lavoro ed elevate multe per 25 mila euro. Sentiamo. Un'azione costante, quella delle forze dell'ordine, è finalizzata a debellare il fenomeno del caporalato e così, dopo il blitz dello scorso mese di dicembre, è scattata una nuova operazione sul territorio di Ribera, mentre è ancora in corso la raccolta delle arance. Ad effettuarla i carabinieri del nucleo e spettorato del lavoro, assieme ai colleghi del comando provinciale di Agrigento e della compagnia di Sciacca, militari che hanno setacciato le campagne per verificare il rispetto delle norme in materia di lavoro e contrastare il fenomeno del caporalato. Ancora una volta è emersa una situazione di sfruttamento nei confronti di vari braccianti agricoli provenienti dal Nord Africa, approfittando della loro condizione di bisogno. Al termine dei controlli sono scattate due denunce a piede libero alla Procura della Repubblica di Sciacca, una delle quali nei confronti del titolare di un'azienda agricola per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Riscontrate anche violazioni alla normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, scoperti otto lavoratori in nero, di cui due cittadini extracomunitari risultati privi del permesso di soggiorno sul territorio italiano. A conclusione dell'operazione sono state elevate sanzioni per un ammontare di circa 25 mila euro. Già nello scorso mese di dicembre, nella fase iniziale della raccolta delle arance, i carabinieri erano intervenuti con una vasta operazione di controllo che aveva portato all'arresto di un presunto caporale e alla denuncia di altre sei persone, ma soprattutto aveva portato alla ribalta anche nelle nostre zone il fenomeno dello sfruttamento nelle campagne di immigrati, anche irregolari, che vengono fatti lavorare in nero. Non accenna a diminuire l'escalation di furti che da settimana interessa le campagne sascensi, malgrado siano stati intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine. Nel Mierino due notti fa ancora la contrada a Bordea è l'amara sorpresa ieri mattina per il proprietario che ha trovato letteralmente a soccuadro la propria abitazione estiva, abitazione dove insiste anche un magazzino per i mezzi agricoli dalla quale ladri, pare, non abbiano portato via niente. Hanno solo rovistato e messo a soccuadro tutto. Si tratta di un'abitazione non molto distante da quella dove la scorsa settimana i malviventi si erano intrufolati approfittando dell'assenza dei proprietari. Proprietari che hanno fatto rientro proprio mentre i ladri rovistavano tra le loro cose per poi fuggire nelle campagne circostanti. Si tratta di episodi che destano sicuramente preoccupazione nei residenti della zona che chiedono ulteriori controlli nelle ore notturne. Nel Merino nelle ultime settimane dunque sono tornate le campagne spesso disabitate in inverno in magazzini rurali. Segnalazioni alla nostra redazione arrivano non solo dai residenti di Contrada Bordea ma anche da Raganelle e Contrada Scunchipane dove in alcuni casi i ladri avrebbero portato via diversi attrezzi da lavoro. Un lungo e commovente applauso ha salutato ieri pomeriggio la decisione di rinviare la processione della Madonna del Soccorso il cui simulacro è stato alzato all'interno della Basilica tra una folla di fedeli. L'appuntamento è per domani pomeriggio alle 17 ma ripercorriamo quanto accaduto ieri in questo servizio. Un lungo applauso ha salutato il simulacro della Madonna che ieri sera dopo la decisione di non svolgere la processione è stato alzato dai marinai all'interno della Basilica tra i tanti fedeli presenti in chiesa. Un momento senz'altro commovente che ha concluso un pomeriggio frenetico culminato con la decisione assunta pochi minuti prima delle 17 di rinviare la processione. Troppo pericoloso fare diversamente a detta degli stessi portatori della vara. Nella discesa lì si scivola normalmente senza pioggia. Allora, vedi già ora. Dalla tarda mattinata in avanti protezione civile, amministratori comunali, portatori della vara, l'arciprete e Don Carmelo Lobue hanno valutato l'opportunità o meno di fare svolgere regolarmente l'evento religioso. Alla fine ha prevalso lo slittamento a domani pomeriggio, sempre alle 17. Porta acqua. Porta acqua dopo. Il problema è che se mette la stessa e il piove che succede. Visto l'entrata. Il problema è che si scende e esce regolare. E l'entrata? Sabino o no? Il problema è che si scende. La discesa è che si scende. Solo la discesa. Ci metti qui come per il piove. Le previsioni del tempo sono incoraggianti solo per quel momento. Per tutta la giornata di oggi si attendono infatti piogge. A preoccupare soprattutto i conducenti del simulacro della Madonna è stata l'umidità che si era accumulata sui gradini del sagrato della Basilica della Madonna del Soccorso. Avevano manifestato seri dubbi in merito al pericolo che i pescatori, che come sapete, come vuole la tradizione, procedono a piedi scalzi, potessero in qualche maniera scivolare. La vara è particolarmente pesante e questo rischio sarebbe stato decisamente elevato. Questa è la ragione per la quale alcuni volontari si sono anche industriati, tentando di asciugare i gradini con l'utilizzo di moci. Sarebbe stato comunque un'impresa riuscire a rendere il percorso più sicuro. E oltre ai gradini anche le strade del centro da dove la Madonna avrebbe dovuto transitare. Tantissimi, malgrado il cielo grigio e i fedeli che avevano affollato la Basilica, diversi quelli che aspettavano sulla piazza Duomo. La decisione di rimandare tutto è sembrata in effetti la più saggia e a volerla fortemente sono stati gli stessi portatori della vara, coloro che meglio conoscono le difficoltà e le fatiche di quel percorso. Il pomeriggio è continuato con la celebrazione della Santa Messa, con i tanti fedeli che avevano già riempito la Basilica e il Sagrato in attesa della decisione finale. L'appuntamento per i tantissimi devoti alla Madonna del Soccorso che attendevano che si consumasse anche quest'anno questo momento di fede e tradizione è solo rinviato a domani, domenica pomeriggio, alle 17. Riaprire e rilanciare le terme di Sciacca completando l'iter che è stato avviato ad ottobre con la firma dell'atto concessorio. Lo chiede con una interrogazione al governo regionale, il deputato Saccenze e Michele Catanzaro. Catanzaro che poi polemizza con il Movimento 5 Stelle, ho condiviso il DDL per la denominazione Sciacca Terme. Collaborino anche loro con noi adesso per ultimare l'iter di consegne dei beni al Comune anziché fare polemiche. Sentiamo. Il governo regionale, coinvolgendo l'amministrazione comunale di Sciacca, mette in campo tutte le iniziative necessarie a rilanciare il complesso termale della città, che da troppi anni è in abbandono, dichiara Catanzaro. L'interrogazione, nel dettaglio, è indirizzata al presidente Musumeci, all'assessore al turismo Popolardo e all'assessore all'economia Armao. Catanzaro chiede che sia superata l'attuale situazione di stallo e confusione. Nell'interrogazione, l'esponente del PD ricorda che il 25 ottobre scorso è stato sottoscritto un atto concessorio tra l'assessorato regionale all'economia e il Comune di Sciacca per l'affidamento a quest'ultimo di una parte dei beni, tra i quali lo stabilimento cure, il Grand Hotel delle Terme, il Parco, l'Auditorium San Francesco e le piscine a Molinelli. Tuttavia, dice Catanzaro, manca ancora la stipula del verbale di consistenza inerente alla verifica delle condizioni delle strutture. Inoltre, altri beni che fanno parte del patrimonio termale sarebbero stati posti già in vendita. Questa situazione, denunciata anche dal sindaco di Sciacca Francesca Valenti, non è più accettabile. Serve un intervento urgente del governo, conclude il parlamentare PD, che permetta alla città di riappiopiarsi di quello che può e deve tornare ad essere uno straordinario volano per il turismo, l'occupazione e l'economia del territorio. Catanzaro, che poi entra in polemica con il Movimento 5 Stelle locale, che chiede appunto che fine abbia fatto il ricongiungimento dei beni e la commissione speciale voluta dalla maggioranza, che ad oggi non si è mai riunita. Il gruppo, che fa capo al deputato Matteo Mangiacavallo, sottolinea come le terme siano ancora chiuse, i beni che fanno parte del patrimonio non tutti trasferiti, il bando di affidamento nemmeno abbozzato, e chiede in generale di superare questa fase di silenzio e immobilismo. Per Michele Catanzaro, invece, questo è il momento di collaborare e di non fare polemiche. Io sono per andare avanti, non per guardare indietro, e l'ho dimostrato firmando il DDL Mangiacavallo per la denominazione Sciacca Terme, che adesso sarà possibile grazie ad una semplice delibera del Consiglio Comunale. Se ad ottobre non avessimo avviato quest'iter, conclude Catanzaro, oggi saremmo all'anno zero. Adesso occorre completare l'iter. Vicenda ascensore all'ospedale di Sciacca, arrivato dall'ASPE, il rammarico per quanto è successo nei giorni scorsi e al tempo stesso la rassicurazione l'ennesima a onor del vero su un imminente ripristino degli ascensori all'interno del Giovanni Paolo II. Vediamo. La rottura di una fune d'acciaio trascina porta che ha provocato il guasto di uno degli impianti elevatori del presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca nel corso della mattinata di mercoledì è stata prontamente riparata e il Montalettighi è tornato in funzione nel corso di un paio di ore. L'ASPE di Agrigento è intervenuta sulla vicenda del guasto anche all'ascensore che viene utilizzato per il trasporto dei pazienti in sala operatoria. Vicenda che al di là della tavica questione che riguarda quasi tutti gli ascensori dell'ospedale di Sciacca ha destato particolare clamore proprio per le oggettive difficoltà che hanno costretto gli operatori sanitari a portare di peso un paziente in sala operatoria. Per quanto è successo l'azienda sanitaria provinciale ha espresso un rammarico e al tempo stesso ha rassicurato l'utenza che nell'arco di qualche giorno sarà ripristinata la funzionalità di altri sei ascensori del nosocomio Saccenze attualmente fermi. Entro il 10 febbraio stando alle previsioni del servizio tecnico aziendale saranno rimessi in funzione i primi tre ascensori mentre gli altri tre al termine di un intervento specializzato ripartiranno entro la metà di marzo. Così facendo giunge la direzione dell'ASP sarà assicurata in tempi brevi l'efficienza di 16 elevatori, quelli più importanti, sul numero totale di 30 impianti di cui dispone il presidio ospedaliero. Nell'ospicio che questa volta siano realmente rispettati i tempi e impegni la metà degli ascensori collocati all'interno della struttura ospedaliera di Sciacca rimarrà comunque inutilizzabile ancora per molto tempo. Nella nota diffusa la stessa azienda sanitaria provinciale precisa infatti che questi altri 14 ascensori saranno oggetto di un intervento di ripristino che è stato già programmato nell'ambito di un appalto globale in via di definizione con il quale si procederà alla riparazione di tutti gli ascensori presenti nelle varie strutture distribuite sul territorio provinciale. Scrutatori in occasione delle elezioni del 4 marzo prossimo i consiglieri del Movimento 5 Stelle hanno chiesto all'amministrazione di individuare nella scelta di quanti saranno impegnati nei seggi criteri di preferenza che diano priorità alle categorie di disoccupati, inoccupati, disabili e studenti non lavoratori. Curreri e Bilello hanno inoltre proposto alla commissione elettorale di effettuare il sorteggio dei nominativi ricorrendo al sistema elettronico per garantire la massima trasparenza nelle operazioni. Sarà siglato lunedì prossimo alle 13 a Santa Margherita Belli c'è un protocollo d'intesa tra l'aspe di Agrigento e sindaci dei comuni di Montevago, Santa Margherita Bellici e Sambuca per la realizzazione della Casa della Salute. L'obiettivo è la realizzazione di una struttura che risponda alle esigenze dei tre comuni bellicini a seguito dell'indebolimento dei servizi sanitari pubblici offerti all'utenza del territorio. La Casa della Salute sarà a servizio dei comuni di Santa Margherita Bellici, Montevago e Sambuca di Sicilia. La struttura si legge nel protocollo che sarà siglato lunedì prossimo alla presenza del commissario dell'ASP Gervasio Venuti e dei sindaci sarà gestita da volontari sorretta dall'impegno istituzionale dei tre comuni coinvolti dall'ASP di Agrigento e dall'assessorato regionale alla salute in stretto e costante raccordo operativo. E adesso uno sguardo alla nostra programmazione. Dopo tutte le edizioni del nostro telegiornale sia sul canale 115 sia sul canale 645 andrà in onda la trasmissione Curriti Picciotti destinazione Carnevale. Lo spazio della nostra emittente è dedicato all'imminente edizione del Carnevale di Sciacca. L'appuntamento oggi è con l'associazione Eora Li Fermi Tu che realizza il carro allegorico. Non c'è più rispetto. Potrete rivedere la trasmissione in ogni momento sul sito www.rmk.it e su Facebook e Youtube nelle nostre pagine RMK Sciacca. Dopo la trasmissione Curriti Picciotti destinazione Carnevale intorno alle 15 e alle 20 andrà inoltre in onda un altro approfondimento dedicato al Carnevale e ma avanti verso il Carnevale curato da Accursio Giglio e Leonardo Turturici. E adesso invece spazio ai consigli della libreria Mondadori. Nell'Islanda del 1941 occupata dagli alleati e in attesa della visita di Churchill un commesso viaggiatore viene ucciso con un colpo di pistola alla nuca. Il proiettile appartiene a un'arma americana e in effetti la convivenza fra islandesi e stranieri ha generato sull'isola parecchia tensione. Ma l'assassino ha tracciato una svastica sulla fronte del morto che si scopre è figlio di un medico filonazista. Il caso finisce sulla scrivania di Flovent, poliziotto islandese alle prime armi. Eddie Thorson, agente della polizia militare alleata, costretti a collaborare per risolvere il giallo. Il commesso viaggiatore di Arnaldur Idriasson, edito Guanda. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi. Appuntamento alle prossime edizioni. Intanto a tutti voi, buon fine settimana. Grazie a tutti.